L'Axilella si avvicina pericolosamente alla città di Bari. Un nuovo focolaio è stato infatti individuato a Torreammare, ad una ventina di chilometri dal capoluogo pugliese. Le piante colpite dal batterio sarebbero in totale 9 e non sarebbero soltanto ulivi. Tra gli arbusti colpiti ci sarebbero infatti anche dei mandorli. L'avvicinamento dell'Axilella, che ha già portato dal lontano 2008 alla contaminazione di ben 21 milioni di alberi, preoccupa anche il presidente di Confagricoltura Bari e Bat, Massimiliano del Core, che ha sottolineato come l'estendersi del batterio, possa contaminare anche colture di riferimento delle due province, come quella viniticola, dell'uva da tavola e delle mandorle con la strategia del monitoraggio e del contenimento che continua ad essere quella da preferire per avere un basso impatto del batterio sulle filiere produttive. Intanto arriva una denuncia dalla Col di Rettipuglia nelle campagne leccesi di Nardò, dove i raccolti sono a rischio a causa del caldo e della siccità. Dei criminali avrebbero tranciato 120 giovani ulivi resistenti alla Axilella. Un gesto vile, ha commentato la Col di Rettipuglia, che cerca di togliere nuovamente speranze e futuro alle imprese agricole pugliesi con la criminalità, che agisce rubando le piante di ulivo appena piantumate o sfregiandole o addirittura tagliandole selvaggiamente.